Il capo della diplomazia europea Giuseppe Burrell continua a fare il ridicolo ogni volta che ha prevoca. Ieri alla domanda di che cosa potrebbe accadere all'Ucraina se gli Stati Uniti ritirassero gli aiuti economici e militari? Burrell ha risposto in modo un tanto confuso dicendo non sono un astrologo, non posso prevedere cosa accadrà negli Stati Uniti, francamente prendiamo sul serio ciò che sta accadendo e non ci limitiamo a speculare su ciò che potrebbe o non potrebbe accadere. Non voglio indovinare cosa accadrà, so cosa dobbiamo fare oggi, domani, la prossima settimana e il prossimo mese. Ho molto da fare, non ho tempo per le speculazioni. Ma non solo, queste curiose parole inoltre sono state pronunciate in un tono e una gestualità poco consoni con la materia in questione e il ruolo rivestito. Infine ricordiamo che soltanto qualche mese fa questo personaggio si faceva l'astrologo prevedendo l'effetto lento ma letale delle sanzioni alla Russia. Le sanzioni sono un veneno di accione lenta, come le che sono fatti in base a l'arsenico. Tarda in produzione i sui effetti, però lo facen, e lo facen di una forma irreversibile. Putin già ha perdito la battaglia della energia. Putin già ha perdito la battaglia della energia.